Buongiorno a tutti, siamo felicissimi oggi di avere qui con noi la presidentessa Maria Cristina Gribaudi, la ringraziamo per la presenza, e continuiamo questa sequenza di interviste con i membri del comitato direttivo della nostra associazione, che è AILM, cioè Associazione Italiana Lead Managers. Oggi qui abbiamo, come dicevo, la presidentessa Gribaudi, e se leggo la sua presenza nell'ambito sociale, effettivamente la lista è molto lunga, perché abbiamo Assindustria, l'Agenzia dello Sviluppo di Venezia, il Credit Agricole, abbiamo Federmeccanica, abbiamo H-Farm, e ultimamente, anche sul quotidiano, abbiamo visto la querelle legata al personale dei musei civici di Venezia, e lei è la presidente della fondazione, che cura questi musei. Inoltre, il vicepresidente della nostra associazione da qualche tempo è anche, ovviamente, l'amministratore di K-Line, che è un'azienda leader nel settore delle automazioni per le chiavi e per le chiavi in generale. Adesso, a noi interessa poco gli aspetti tecnici di tutto questo, ma vogliamo sapere chi è. Quindi la prima domanda che facciamo a tutti i membri del Comitato Esecutivo è, chi è Maria Cristina Gribaudi? Allora, faccio una piccola premessa intanto grazie dell'invito, che da pochissimi mesi sono anche membro del Comitato Tecnico Cultura di Confindustria a Roma, e quindi si è aggiunto anche questo, ma noi, avendo il museo all'interno della nostra fabbrica, il Museo della Chiave, facciamo parte dei musei d'impresa, e quindi c'è tutta questa connessione. Ma torniamo alla sua domanda. Chi sono io, al di là di tutte queste attività che faccio? Io sono una bambina, sono una bambina curiosa, rimango assolutamente legata a questa bambina. Io ho scritto un libro che si chiama L'Altalena Rossa, e dove parto raccontando di questa bambina sull'Altalena Rossa. Ecco, io credo che se in questo momento mi devo immaginare chi sono, sono assolutamente una bambina curiosa. Curiosa con ancora tanta voglia di imparare. Da una parte tanta voglia di imparare, di studiare, cosa che continua a fare, fare formazione, ma dall'altra la restituzione, perché è un concetto che mi ha cresciuto mio padre, quindi restituire. Perché io sono una bambina fortunata, ma non perché mio padre era un imprenditore, perché mio padre, che era un sopravvissuto a un campo di concentramento, è tornato, e tornando mi ha dato la vita. Quindi io parto da quel presupposto lì, che sono fortunata. Qualsiasi cosa mi succeda nella vita, io vedo il bicchiere mezzo pieno. Anche in questo momento, che se vogliamo è drammatico, è il bicchiere mezzo pieno. Questa è una grande opportunità per riscrivere una pagina di storia, per riscrivere la nostra vita a quello che stiamo facendo. Tutto quello che facevamo prima della pandemia è cambiato. Non esiste più quel mondo lì. Quindi quella bambina e la curiosità di un bambino che si trova di fronte, mi è più facile affrontare le difficoltà della vita. La risposta è stata concisa e precisa ed esaustiva, per cui a me verrebbe io preso nota di alcune considerazioni che ci ha dato. Ed è un punto, ho scritto, voglio imparare. Perché qualcuno la perde, secondo lei? Per quale punto la si perde durante il cammino? Perché secondo me si ha la sensazione di essere diventati adulti, grandi, di sapere. Per me io continuo a pensare di non sapere, di dover imparare. Io mi sono ritrovata a fare un senior executive program alla London Business School un paio d'anni fa. Quando sono entrata eravamo 60 persone, 4 donne, tutti gli altri uomini, da tutto il mondo. E io mi sono guardata e ho detto per la prima volta che è bello non sono la più anziana o la più matura, mettiamola così. Perché mi sembrava di vedere persone che avessero qualche anno più di me. In realtà poi quando abbiamo cominciato a chiacchierare ho scoperto che ancora una volta ero la persona più matura. E quindi questo mi fa riflettere, no? Mi pone sempre questo mio modo di dover in qualche modo sfidarsi. Io sono una maratoneta, sono una surfista, non so mai i tempi che faccio quando faccio una maratona, perché per me l'importante è arrivare alla fine. L'importante è la sfida con me stessa. Io sono madre di sei figli e questa è stata la più grande sfida della mia vita. Probabilmente sono allenata alle sfide. Essere allenati alle sfide vuol dire che poi quando sei in una qualsiasi organizzazione riesci a gestire probabilmente l'azienda metalmeccanica piuttosto che la fondazione musei civici. Perché finché le cose vanno tutte bene, è tutto fantastico, sono tutti dalla tua parte. Il problema è poi quando arriva nel momento di difficoltà, che non vedi più nessuno vicino a te e che devi prendere delle scelte, devi fare delle scelte. Io abbiamo fatto una scelta, ho dovuto fare una scelta molto impopolare, ma l'ho fatta anche in azienda, quella di usare la cassa integrazione. Quelle sono scelte impopolare perché chi fa il mio mestiere lo fa per assumere, per creare valore, per insegnare un mestiere. Però ci sono momenti in cui bisogna metterci la faccia, fermarsi e dire devo fare una scelta che so che non piacerà, non piacerà al mio capo, ai miei collaboratori, non piacerà, ma io devo mettermi di fronte in una situazione in cui la cassa integrazione in questo momento per qualsiasi organizzazione non è altro che difendere i posti di lavoro. La domanda successiva è fino a che punto l'Italia potrà utilizzare la cassa integrazione e questo è un altro tema importante. Quindi evidentemente anche questo 2021 deve essere, dobbiamo essere molto attenti. Ma come dicevo io prima, sono nata con una persona che mi ha insegnato il sacrificio e la fatica e la bellezza di avere un tozzo di pane. Il pane non si butta via. Io non ho mai buttato via un pazzo di pane, lo porto la signora vicino a casa mia che in cambio mi dà delle galline, delle galline, delle uova. Era quello che faceva mio padre. Beh, le organizzazioni si gestiscono con molta attenzione. Poi puoi fare tutti i master, tutti gli MBA che vuoi, puoi andare nelle migliori questioni del mondo. Però poi ci sono degli aspetti organizzativi con i quali bisogna usare il buonsenso. e quindi creatività spinta alla curiosità della bambina, ma il buonsenso della madre di famiglia, del buon padre di famiglia o della buona madre di famiglia, deve essere quello della condivisione soprattutto in questo momento. Vorrei fare ancora due domande. Una è relativa, ha detto giustamente che ormai il passato sia economicamente che sociale non è più il presente attuale. A livello economico, imprenditoriale, di sviluppo, cosa vede come, come si può dire, tranciato, dirompente nel 21 e nel 22? Cioè in che cosa pensa che un'impresa debba mettere le mani o le unghie per riuscire adesso a ritornare o comunque ad avere un PNL positivo? Bisogna in questo momento ciò di cui abbiamo bisogno è di talenti, di visionari. Di talenti e visionari perché psicologicamente ed economicamente siamo tutti piegati in due e questo sta andando avanti da circa un anno. Quindi questo ci mette di fronte ancora una volta a dover usare la resilienza e soprattutto io ho 61 anni e quindi per persone più mature come me evidentemente c'è poi bisogno di avere tutta una serie di supporti. quindi talenti bisogna portare dentro nelle organizzazioni i giovani. I giovani che in questo momento beh noi l'abbiamo visto insomma noi abbiamo visto in questa situazione di questa pandemia è quasi un anno che chi avrebbe mai immaginato che che avremmo fatto tutti questi convegni in videoconferenza che saremmo diventati tutti digitali che a un certo punto tutti i nostri i miei figli sono tutti grandi e sposati sono via di casa ma cioè tutte queste case che sono diventate delle aule ci sono dei momenti che mi collego con dei collaboratori alla sera perché al mattino hanno bisogno al mattino al pomeriggio hanno i computer occupati a casa le linee dai loro figli quindi siamo diventati tutti bravi a ok mi collego a passare da una videoconferenza all'altra dai video meeting no perché è tutto quello che possiamo fare io ho degli area manager che sono un anno che non possono viaggiare e sono persone che sono abituate c'era uno dei miei che l'altro giorno mi diceva ma io è da quando ho 15 anni che viaggio perché ho fatto le scuole all'estero ed è un anno che sono più sto sclerando no quindi bello il primo mese simpatico il secondo dopodiché ecco ma è il discorso anche del lavorare in smart working tanto working è poco smart perché non funziona così perché ci manca il linguaggio corporeo ma ci manca il linguaggio corporeo già usando la mascherina quindi dobbiamo per forza di cose immaginare un modo diverso di comunicare chi è in grado di fare questa cosa qua le nuove generazioni che si adattano molto prima cioè molto prima di noi io ricordo sempre lo faccio ricordo un'amica con una cara amica con la figlia che vengono scoperte che sono ciliache lei aveva 50 anni e ha fatto una fatica pazzesca la figlia che ne aveva 15 beh per lei è diventato normale ha dimenticato cos'era mangiare un panino in autostrada sapeva che doveva gestirla in maniera diversa quindi ecco perché dobbiamo per forza di cose riscrivere un modo di lavorare di relazionarci no perché evidentemente noi che siamo stati una delle prime aziende a prendere la certificazione conciliazione lavoro e famiglia nel 2010 nel lontano 2010 in Italia e nel Veneto beh qua era tutto un open space era tutto un open space era tutto le panchine per sedersi alla macchina del caffè in giardino no relazionarsi fuori i divani no a un certo punto plexiglass dappertutto e faccio il carabiniere perché come vedo tre persone alla stanza entro li caccio da un'altra parte o apro la finestra ma è quello che devo fare sto facendo esattamente il contrario di quello che ho sempre fatto ma non c'era un'alternativa in questo momento non posso che non comportarmi così ma chi è che lo capisce lo capisce le persone che sono più giovani che svanettano col digitale che sono in grado di utilizzare degli strumenti che altrimenti noi non facciamo quindi possiamo avere talenti anche se non sono seduti con noi ma l'importante è avere dei talenti assolutamente ci ha parlato diciamo del futuro però oggi è il 27 gennaio e il 27 gennaio è il giorno della memoria quindi è il ricordo proprio per non dimenticare perché è così legato a questa giornata vuol dirci qualche nota qualche considerazione pensi che la giornata della memoria sentivo stamattina che io mi alzo molto presto quindi mi sono guardata mi sono letta i giornali mi sono guardata la televisione quindi i telegiornali e tutto qua è nata la giornata della memoria solo nel 2000 io non ci credevo stamattina incredibile è come se fino al 2000 non avessimo avuto bisogno di ricordare ho sentito la segre stamattina parlare io ho letto moltissimo l'ultimo libro che ho letto è La scelta di Edith che è questa questa psicologa americana che scrive il primo libro nella sua vita a 92 anni è una sopravvissuta di Auschwitz perché glielo chiedono i nipoti ed è esattamente come mio padre mio padre non riusciva a parlare con noi della sua esperienza in campo di concentramento parlare a un figlio di una cosa così è tanto è difficile e mio padre ha cominciato a parlare mio padre è mancato nel 2009 e quindi credo che proprio per nove anni perché ecco stamattina il ragionamento che facevo quindi dal 2000 al 2009 grazie ai miei figli che lo portavano nelle scuole a parlare e noi lì abbiamo saputo delle cose che non avevamo io non c'era bisogno che mio padre parlasse ma quel pezzo di pane non so che non ho mai potuto buttarlo via e la stessa cosa l'ho insegnato i miei figli è uno sguardo è lo sguardo della fama è lo sguardo di chi ha patito di quella melanconia che mio padre io mi ricordo mio padre entrava in chiesa si guardava attorno stava sempre alla fine delle chiese tutte le volte che sono entrata con lui si guardava attorno e poi mi diceva sai quante volte mi sono chiesto se esisteva Dio e basta cioè non servo altro e grazie a mio figlio Alessandro che a un certo punto ha voluto fare una tesina per la sua maturità e l'ha intervistato e il nonno è stato un fiume in piena e ha tirato e ha aperto da una scatola che aveva dei piccoli pezzi di carta che lui aveva era riuscito a portarsi a portarsi a casa che cosa che cosa mi ha insegnato mio padre com'è che è sopravvissuto a questo campo all'inedia a questo campo di concentrazione perché lui è stato fortunato lo dicevo prima io fortunata lui è tornato e io sono fortunata perché sono nata quando chiedevano i tedeschi chiedevano ma chi è che sa riparare una cucina industriale allora mio padre che studiava e quindi aveva capiva il discorso della formazione capiva che cosa stavano dicendo in tedesco perché la maggior parte non capiva che cosa chiedeva secondo lui era uno studente e al sabato e la domenica scendeva nella bottega del nonno a riparare le cucine industriali quindi lui ha capito la sua formazione ha capito cosa gli chiedevano il suo saper fare ha alzato la mano e ha detto io so riparare questo che cosa ha comportato che mio padre poteva andare avere un lavoro e non morire di media e soprattutto rovistare nell'immondizia e portare a casa per lui nella baracca dove vivevano per lui e i suoi compagni di sventura qualche pezzo di pane buttato via quando era fortunato se no c'era la buccia delle patate la pelle del maiale ecco e io credo che oggi più che mai dobbiamo proprio proprio comprendere questo messaggio forte non dobbiamo mai dimenticarci perché basta veramente poco basta poco per diventare razzisti e guardi io ho i brividi tutte le volte quando uno mi dice guarda io non sono razzista e dice perché me lo ma perché ma perché me lo devi cioè diamo per scontato è come se uno mi chiedesse ma tu ti lavi i denti al mattino ma te lo chiedi perché perché stai sospettando o perché tu non te li lavi c'è un problema quindi cioè il razzismo la violenza cioè sono tutti temi che ma queste le discriminazioni noi abbiamo un codice etico e questo lo dovrebbero avere tutte le aziende la discriminazione sessuale la discriminazione degli omosessuali in azienda no cioè proviamo a pensare no quante volte soprattutto in certi ambienti di lavoro magari vengono chiamati al femminile no quindi queste sono sono tutte attività che noi dobbiamo bloccare nelle nostre organizzazioni la discriminazione delle donne no anche perché parliamoci chiaro nei momenti di difficoltà vanno assunte donne e giovani l'esperienza che una donna ha maturato in una casa a essere multitasking io sono ancora un secondo le voglio raccontare un episodio importantissimo facevamo un corso di lean organization lo facciamo mi arriva il capo il capo di produzione mi fa un elenco e lo vedo tutto al maschile io ho detto ma perché ma diceva secondo me ho individuato queste persone dovevano fare un corso era di formazione tra uomini e donne fabbrica e impiegati tutti uomini l'ho rimandato compiti per casa e dico portami metà e metà ma guarda ma proprio così perché non mi piace vedi tu allora arriva fanno tutto il corso c'era la votazione finale per farla breve le donne hanno superato gli uomini questo arriva da me sconvolto e mi dice scusa ma tu lo sapevi perché mi hai fatto quella cosa perché poi dove tu mi hai mandato ho fatto bene ho fatto una bella figura l'azienda ha fatto una bella figura tutto bene e io gli ho detto bene facciamo così Paolo tu stasera torni a casa apri il frigo tua moglie lavorava apri il frigo e guarda come tiene il frigo tua moglie poi vai a vedere come tiene lo sgabuzzino le scopre e vedrai quella si chiama l'inorganization è vero e questo è su aspetti legati all'inclusion e al valore aggiunto perché poi alla fine conta poco chi porta valore aggiunto all'azienda è il valore aggiunto di persone chi è che in un momento come questo le donne riescono a essere più trasversali si identificano meno col loro ruolo un uomo si identifica con la propria poltrona la propria sedia il mio potere le donne in questo momento che sono saltati tutti i paradigmi sono saltati tutti non ce n'è uno che abbia tenuto evidentemente possiamo riscrivere solo con chi veramente si mette in gioco perché se io non mi mettessi in gioco ogni giorno probabilmente mi avrebbero già mandato a casa a fare le torte il problema dell'eterna bambina che io dicevo è probabilmente l'eterna bambina che c'è dentro di noi quel bambino che ha quella curiosità io ho visto mio padre che lui si augurava di morire in un attimo di non rimanere su una sedia a rotteglia perché dice io ho sofferto tutta la mia vita ed è stato accontentato è morto di infarto in un secondo lui era cardiopatico aveva già avuto degli interventi vent'anni prima però è morto con un libro in mano ha passato tutta la sua vita a fare formazione non c'era giorno che mio padre non facesse delle fotocopie di articoli perché all'epoca lui sapeva fare le fotocopie degli articoli di giornali che potevano interessare a me piuttosto che a mio marito e ai miei figli cioè diversificando l'informazione e la formazione e questo è io lo passo via email leggo al mattino i giornali e poi magari li giro ai colleghi o alla famiglia ho letto questo articolo fantastico poi qualcuno legge qualcuno no però magari se il tarlo lo metti poi c'è quel passaggio no l'asticella si alza l'asticella la cultura serve a quello la formazione della cultura io sono per la democratizzazione della cultura noi in fondazione musei civici a parte il problema adesso contingente che è un battito di ciglio è un momento che visto nella sua globalità è un attimo ma noi abbiamo aperto tantissimo per esempio facciamo 2500 attività educative per i bambini il museo non è solo vedere il museo lo visito da bambina lo visito quando sono divento genitore e quando divento nonno il museo è la nostra storia le nostre radici all'interno di un museo puoi studiare il tuo futuro perché ti rendi conto cosa hanno fatto i tuoi avi no noi abbiamo aperto con la abbiamo fatto siamo stati un progetto abbiamo fatto un progetto pilota con l'Unicef e abbiamo creato dei baby pit stop a Venezia siamo stati la prima fondazione a farlo museale dove degli spazi gratuiti prima di pagare il biglietto dove le mamme le famiglie possono arrivare a cambiare il loro bambino e allattarlo ma noi abbiamo restituito alla città di Venezia 11 location una cosa pazzesca perché io quando andavo con i bambini piccoli il problema è dove allatti un bambino dove lo cambi in una città come Venezia complicatissimo quindi io ho visto le cose che vedevo perché i musei erano sotto sotto gli occhi di tutti abbiamo creato uno spazio ma i musei hanno tanti spazi ce la puoi fare prima di pagare il biglietto quindi gratuito pulito e quindi ecco perché dobbiamo guardare osservare io tutte quelle l'elenco che lei ha elencato prima certo il mio è un osservatorio privilegiato ma io non sono più la persona che ero prima io sono recepisco sono un recettore di nozioni di informazioni e di formazioni che poi ridistribuiscono nelle altre organizzazioni quindi e quindi ecco quel sapere cioè che è il saper fare del essere poi operativi perché poi bisogna poi non stare in cielo ma stare coi piedi per terra e prendere delle decisioni ma nell'altro tempo non crediamo più al tuttologo evidentemente ma crediamo all'insieme delle formazioni e informazioni e alla condivisione con un team di persone presentessa molto interessante grazie dell'intervento voglio ricordare che comunque considerando questa questo cambiamento come abbiamo detto prima delle condizioni AIM farà altre cose di questo tipo durante ovviamente non il 2021 ma da adesso in poi quindi stiamo elaborando un pochino le interviste magari diventeranno tavole rotonde magari a tre con argomenti video informazioni insomma utilizzeremo quello che è digitale per riuscire a comunicare quello che magari prima facevamo in un solo evento con 100 o 200 persone per cui il punto è lì ovviamente a livello europeo perché questo ci ha facilitato a andare all'estero cosa che facevamo anche prima ma sviluppando contatti con altre nazioni Polonia Portogallo Belgio Germania adesso cominceremo a diventare molto più europei per cui la ringraziamo ancora e alla prossima insomma grazie a voi un saluto a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti